È un 22enne italiano l'uomo arrestato questa mattina a Rovello Porro e ritenuto responsabile dell'aggressione a una ragazza di 16 anni. Alle prime luci dell'alba i carabinieri della compagnia di Saronno hanno fermato il 22enne come indiziato del reato di violenza sessuale aggravata nei confronti di una 16enne commessa all'interno della stazione ferroviaria di Saronno Sud. La violenza si era verificata la sera di domenica 23 settembre. Poco dopo le 19 una ragazza in preda al panico aveva chiesto l'aiuto di alcuni passanti. Intervenuti i carabinieri aveva raccontato di essere stata vittima di violenza da parte di un giovane all'interno del sottopassaggio. Purtroppo c'è stata questa costruzione psicologica, questa violenza psicologica nei suoi confronti che l'ha portata a scegliere probabilmente il male minore vista anche l'imponenza dello stesso aggressore vistasi sola. Ha preferito evitare di contraddirlo sostanzialmente per evitare aggressione anche fisica. Nei giorni successivi a reato i filmati della videosorveglianza hanno confermato l'accaduto e mostrato un uomo che seguiva la minorenne sin dalla stazione ferroviaria di Ceriano Laghetto per poi costringerla a scendere alla stazione di Saronno Sud. Tenendo sempre una mano in tasca e riferendo alla ragazza di nascondere una pistola il ragazzo aveva obbligato la vittima a seguirla nel sottopassaggio dove di lì a poco sarebbe avvenuta la violenza. A lui i militari sono risaliti grazie a campioni di DNA e impronte rilevate sul posto tra cui un maniglione della porta antipanico toccata dall'indagato e alcune tracce biologiche rinvenute nell'area della violenza dai militari della compagnia di Saronno e analizzate dal RIS di Parma. Nei giorni scorsi in collaborazione con i carabinieri della stazione di Solaro è stato recuperato un ulteriore campione di DNA dell'indagato il cui profilo è risultato compatibile con l'autore del crimine. Il profilo psicologico del colpevole, del responsabile è particolare. Non escludiamo che ci siano stati altri casi analoghi a questo anche relative a molestie subite all'interno di vagoni, di treni in movimento soprattutto perché comunque il nostro uomo è un assiduo frequentatore di quel tratto ferroviario Saronno-Seregno che purtroppo è negativamente conosciuto. Il giovane ora in carcere a Busto Arsizio a disposizione dell'autorità giudiziaria che nei prossimi giorni si esprimerà sulla convalida del fermo emesso dal sostituto procuratore della Repubblica di Busto Arsizio.